che mi diverto. Ciao a tutti, io sono Edoardo, mia madre è la direttrice dell'agriturismo Il Cuscino nel Pagliaio, una piccola azienda a gestione familiare, noi siamo molto forti insieme, siamo felici di poter coltivare la paulonia, queste piante come vedete sono molto più grandi di me ma hanno solo quattro mesi, siamo molto felici di poter usare la nostra forza per coltivare le piante e cercare di dare un futuro alla nostra azienda e alla nostra piantagione. E anche per tasca tua. Volendo. Complimenti.